eravamo di cose strane così che si fanno, ad esempio Luca è un bravo imitatore di Valeria Marini, è vero? Lo facevi, dai, io mi ricordo l'età, che stronzo. Lo fai benissimo. Ma perché ce l'ho avuta a casa mia a Los Angeles? La lega non rispondere al telefono, ok, pronto? Poi faceva Luca chi? E attaccava perché non capiva. Ah perché ti parlavano in inglese? Quindi parlavano in inglese ma lei che non capiva? No. Allora, quema, questo è uno dei cd più belli che ci sono. Voto Antonio, voto Antonio. Ormai qui siamo a livelli più belli. Voto Antonio, Goltatovillo! Oro nero e Georgia, Goltatovillo! Ma bravo Georgia. Così gli aspetti devono essere! Così gli devono essere! E la radio degli anni 70 si faceva così, guarda, si faceva così. E un Ragazzi, l'ultima fatica a 45 giri di quest'artista che si chiama Giorgia Todrani. Ma in arte, Giorgia, scegliamo una canzone, la title track, cioè ovvero, e poi traducevano quella che dà il titolo all'intero LP, Everybody Get Down! Giorgia Oronero! Parlano di te, che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me, che non mi amò davvero, ma una carezza sul mio viso e il mio primo pensiero. Parlano di noi, e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero, e questa sono io, non lo voglio, l'Oro Nero. Oro Nero. Faccio il Giorgio. Oro Nero. Ch Тогда il ultimo disco di Giorgia Contrato in vendita nelle migliori bancarelle Parlano di te che tu non puoi cambiare Ma nella vita hai fatto passi Per potere amare Parlano di me Ci credo per davvero Le tue parole sono oro Basta oro nero